Musica Scoperta a Palermo una centrale della droga, 10 le persone arrestate, tra le quali anche insospettabili. I comuni siciliani che accolgono i migranti avranno fondi dalla regione l'annuncio del governatore Crocetta. Al Via in Sicilia, l'istituzione di un registro regionale per la sclerosi multipla. Buonasera e bentrovati all'edizione di Media News di martedì 9 giugno. Come avete appena sentito nei titoli, scoperta a Palermo una centrale della droga, blizza l'alba della polizia, 10 le persone arrestate, tra le quali anche insospettabili. Vediamo. Coltivazione, produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina, marijuana e hashish. Operazione antidroga della Polizia di Stato di Palermo. Gli agenti hanno eseguito 10 misure irrestrittive nel capoluogo siciliano in provincia. Il provvedimento è stato eseguito dai poliziotti e la sezione antidroga della squadra mobile, che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal locale ufficio del GIP su richiesta della DDA. L'operazione, denominata Andreas, ha avuto origine dallo sviluppo di spunti investigativi ottenuti, tra l'altro, dalla sorveglianza di alcuni giovani dediti allo spaccio di cannabis a Palermo. Le indagini sono durate circa un anno. Nel corso dell'attività investigativa sono emerse ulteriori responsabilità il coinvolgimento di numerosi indagati, in alti traffici illeciti, nonché nella produzione diretta e nella vendita di sostanze stupefacenti. Coinvolti sia individua al di sopra di ogni sospetto, che è pregiudicati, tra i quali spiccano le figure di alcuni recidivi con precedenti specifici. Gli investigatori sono riusciti a disarticolare un'organizzazione composta da diverse persone, alcune delle quali in connessione con Cosa Nostra, sequestrati ingenti quantitativi di droga. Bruno Contrada meritava una sentenza di assoluzione da tutti i reati contestati, tanto più in relazione al reato di concorso esterno in associazione mafiosa, che non è previsto neppure come reato dal nostro ordinamento. Lo afferma il legale dell'ex numero 2 del SIS dell'avvocato Giuseppe Lipera, che in vista della prima udienza del processo di revisione a carico del suo assistito, in programma il 18 giugno davanti alla Corte d'Appello di Caltanissetta, ha depositato una memoria difensiva con capitoli di prova, chiedendo l'ammissione di numerosi testimoni, tra cui anche il vice capo della Polizia, Francesco Cirillo. I comuni siciliani che accolgono i migranti avranno fondi dalla regione, ad annunciarlo il governatore Rosario Crocetta. Comuna pace della Lega e di Maroni, i comuni siciliani che accolgono i migranti, oltre alla premialità dello Stato, riceveranno fondi anche da parte della regione siciliana. Lo annuncia il governatore della Sicilia, Rosario Crocetta. L'assessore alla funzione pubblica, Ettore Leotta, ad intesa con il Presidente, si è elaborato un disegno di legge che la Giunta regionale esaminerà alla prossima riunione. I parametri per l'erogazione dei fondi, dice Crocetta, si baseranno sia sul numero di sbarchi, sia sul numero delle persone realmente accolte nei centri di accoglienza per i migranti e per i minori non accompagnati. Già l'anno scorso in bilancio abbiamo inserito un contributo straordinario per Lampedusa, Pozzallo e Augusta, continua il governatore. Con il nuovo DDL incardiniamo i finanziamenti in una prospettiva pluriennale per fare in modo che i comuni possano affrontare anche la questione del rilancio delle immagini in termini turistici, immagine danneggiata dalle raffigurazioni di false invasioni che non rispondono alla realtà. I comuni infatti, nonostante gli sbarchi, garantiscono la sicurezza dei cittadini e la tranquillità sociale. A Lampedusa, per esempio, non è mai avvenuto alcun atto di criminalità legato ai migranti. Per Crocetta, l'iniziativa della regione siciliana rappresenta, oltre che un messaggio positivo, anche un monito per chi come Salvini e Maroni lanciano una battaglia xenofoba e antimeridionalista perché lasciano alle regioni del sud la questione dell'accoglienza. Ex-PIP, a partire da oggi fondi disponibili per i pagamenti, pronto il piano di assegnazione per i primi 240 lavoratori. Vediamo. Sembra essersi risolta la questione dei lavoratori ex-PIP. A partire da oggi, infatti, saranno a disposizione dell'Inpsi, fondi necessari ai pagamenti. Lo ha annunciato il presidente della regione, Rosario Crocetta, da Roma, dove si trova per tutta una serie di incontri istituzionali alla Commissione della Camera sullo stato di attuazione delle autonomie speciali. Il governo si scusa con i lavoratori per il ritardo, scrive il presidente in una nota, che ha sicuramente creato problemi a soggetti bisognosi, ma questo è legato ai tempi necessari per la pubblicazione della finanziaria, per la predisposizione degli atti e per il trasferimento delle risorse. Crocetta ha dunque rassicurato i lavoratori non ancora assegnati e che non hanno problemi giudiziari. Da oggi comincerà il pieno di assegnazione con i primi 240 lavoratori e nel giro di qualche giorno verranno chiamati. Inoltre resta in piedi la possibilità di un reimpiego dei lavoratori del bacino ex-PIP per un progetto speciale congiunto tra il Comune e la Regione relativo alla pulizia dei siti degli itinerari Patrimonio dell'Umanità. Un'apertura dunque che arriva dopo che la RAP ha sbattuto la porta in faccia alla Regione sull'impiego di 600 ex-PIP per la raccolta differenziata in città. Dalla società hanno fatto sapere di essere sufficientemente dotati a livello di personale e professionalità per svolgere il lavoro e di non avere quindi bisogno di altri lavoratori. I 260 lavoratori della SIS destineranno due ore del loro lavoro alla famiglia di Vitale Mastrangelo, l'operaio morto precipitando da un costone roccioso in cantiere a Palermo. È quanto è stato deciso dall'Assemblea Sciopero di Solidarietà indetta questa mattina da Filea, Filca, Fineal al cantiere della SIS di Cardillo in via San Lorenzo per manifestare così vicinanza all'edile di 36 anni morto giovedì scorso. Parliamo adesso di pedonalizzazioni a Palermo. Ne abbiamo discusso con Rosario Filoramo, nuovo capogruppo del PD al Consiglio Comunale. È un percorso che è stato avviato da questa amministrazione, è un percorso che ci ha visto noi come Partito Democratico essere accanto all'amministrazione, una delle poche volte in cui siamo stati accanto all'amministrazione. Riteniamo che sia importante che il centro storico della città sia valorizzato anche attraverso le pedonalizzazioni. Li abbiamo sostenute con coraggio, riteniamo però che d'altra parte l'amministrazione comunale deve attuare tutta una serie di scelte politico-amministrative che consentano che poi le pedonalizzazioni siano un vantaggio. Se le pedonalizzazioni invece finiscono per essere soltanto un problema per chi non può spostarsi in città o per coloro che magari abitando al centro storico, pensa a chi non guida l'automobile o chi è anziano, non ha mezzi alternativi al mezzo privato per potersi spostare. Viva le pedonalizzazioni ma quella povera donna magari resta a casa e non si può muovere perché non c'è un trasporto pubblico adeguato. Allora il Partito Democratico propone che il percorso di pedonalizzazione vada avanti ma il percorso di pedonalizzazione deve essere anticipato ogni volta da scelte urbanistiche, dal punto di vista della fornitura di servizi, il trasporto pubblico innanzitutto, che deve essere vero, deve essere efficiente, deve essere un'alternativa a volte unica, a volte deve sostituire il trasporto privato ma deve esserci. Se in questo non c'è il Partito Democratico non sarà accanto all'amministrazione a sostenere le pedonalizzazioni. Lillo Firetto ha presentato la sua lettera di dimissioni da parlamentare regionale. Le dimissioni avvengono a pochissimi giorni di distanza dalla sua elezione a sindaco di Agrigento. È la prima volta che un deputato regionale siciliano rinuncia al mandato parlamentare per dedicarsi esclusivamente alla carica di primo cittadino. La gente aveva necessità di sentir parlare di questioni, però sentirne parlare dal di dentro con l'individuazione di soluzioni possibili. Credo che in maniera molto semplice questa sia la chiave che c'è un po' di istinto rispetto al resto dei competitori. Agrigento deve riprendersi se stessa. Questo è stato il mantra che abbiamo detto, utilizzato nel confronto con la città. Riprendere se stessa significa riacquisire orgoglio d'appartenenza, fare in modo che la valle non sia un recinto a sé stante ma sia integrata con la città che va a sua volta ripensata in una logica quindi integrata che crei sviluppo. Per troppo tempo le due cose hanno viaggiato su binari diversi ed è quello che oggi non bisognerà fare. intersecare queste opportunità per fare in modo che il traino della vita economica di questa città sia proprio questo bene grandioso, questa fortuna che ci è capitata con gli agrigentini, cioè l'essere abitanti nell'intorno di una grande valle. Una donna di 43 anni, Maria Rita Lamantia, è morta a Palermo in seguito ad una infezione sviluppata dopo un intervento per una frattura al piede. Una banale caduta dal marciapiede l'è costata la vita dopo essere stata operata nel reparto di ortopedia del ploniclinico. È morta in rianimazione al civico dove era stata trasferita ormai in coma. Ma i parenti hanno sporto denuncia, non riusciamo a capire. Dicono come per una banale frattura si possa perdere la vita e a maggior ragione durante un ricovero ospedaliero e dunque sotto il costante controllo di medici e infermieri. Al via in Sicilia, l'istituzione di un registro regionale per la sclerosi multipla è una più agevole modalità di distribuzione dei farmaci sul territorio. Uno strumento essenziale per i malati e per le loro famiglie se ne è parlato nel corso di un convegno organizzato dall'Aism a Caltanissetta. Vediamo. Non bisogna perdere la centralità sul tema sclerosi multipla perché essendo una malattia che continua a colpire numerosi giovani, giovani adulti, è diventata un'emergenza anche sanitaria. La gestione della sclerosi multipla diventa un problema della sanità perché diventa un problema come efficientare la spesa piuttosto che come qualificarla, come trasformare questa realtà in una realtà virtuosa che possa quindi erogare sempre più servizi. Quindi l'unità, la collegialità e la capacità di poter mettere a sé i saperi costruendo l'interno della rete è diventata una scommessa su cui appunto l'assessore Borsellino ha portato avanti varie attività importanti come per esempio l'istituzione di questi percorsi terapeutici personalizzati piuttosto che il sistema Ben Spock, piuttosto che il registro, adesso l'impegno a definire e istituire ufficialmente il registro matisclerosi multipla e in più ovviamente però sicuramente molte cose sono state fatte, è un bene, ma tante altre cose ancora devono essere oltre che realizzate anche focalizzate. Un successo, un successo perché ancora una volta la nostra associazione dimostra di essere coesa, libera e direi anche capace di interloquire con le istituzioni e dare piano piano tutte quelle risposte che fino a qualche anno fa non c'erano. Un movimento che vogliamo sempre più popolare ma un movimento coese affinché in realtà insieme più forti non diventi uno slogan ma diventa una concretezza del nostro agire e del nostro essere volontari AISM. A Santa Flavia è stata restituita la collettività, la palestra della scuola materna Mariano Cefalù. Ascoltiamo allora il vice sindaco Salvatore Sanfilippo. Oggi per noi tutti sia amministratori che dirigente scolastica, quindi autorità scolastiche anche a livello regionale e quindi per tutti noi la collettività intendo dire è un gran sogno perché finalmente abbiamo raggiunto un obiettivo, quello di restituire ai nostri cittadini e alla cittadinanza tutta la palestra che era chiusa da anni. Ci sono state delle criticità negli anni passati, ci sono stati qualche spostamento da un asilo nido, da una materna ad un asilo nido, però complessivamente la situazione è sotto controllo. Sì, diciamo che stiamo vigilando tuttora, infatti ho avuto un incontro con il capo ufficio tecnico che a breve faremo una ricognizione di tutti gli edifici per evitare come è successo lo scorso anno che a inizio anno scolastico abbiamo avuto dei problemi nel plesso centrale della scuola media superiore e quindi andremo a verificare lo Stato per accertare dopo se bisogna fare degli interventi. Cerchete di agire preventivamente? Sì, siamo contenti perché tutte le problematiche si sono verificate, come lei diceva, siamo riusciti in tempo subito ad agire e quindi a risolvere il problema. Oggi siamo qui, come dicevo, per questa apertura della palestra e per noi è un obiettivo raggiunto e come amministrazione siamo veramente fieri di noi e di tutti i concittadini che hanno creduto in noi. L'apparato amministrativo che diciamo si è speso in questa direzione. Senza dubbio tutti gli obiettivi che si raggiungono non è merito di una persona ma di un gruppo che lavora. è stato uno dei protagonisti della cosiddetta seconda Repubblica. Fausto Bertinotti incontrerà domani il pubblico a Cinisi, a Villa Adriana in occasione dell'uscita del libro, sempre da capo, scritto a quattro mani con Don Roberto Donadoni. Un'occasione per tracciare un punto sull'attuale situazione politica ma anche rivederne le idee guida che hanno ispirato l'ex leader di rifondazione comunista. In particolare spazio verrà dato ad un lato inedito della personalità di Bertinotti. Il suo rapporto con la fede e quanto quest'ultima possa rivelarsi chiave di volta nella lotta contro le ingiustizie e per la difesa dei diritti umani. L'incontro avrà luogo alle ore 19.30 con ingresso libero. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione e come sempre appuntamento alle prossime edizioni.